La resa dei Pompeiani, ultimissima parte, in Egitto, leggiamo dei brani in lingua latina e traduciamoli insieme, analizziamoli insieme, dal De Bello Civili, abbiamo iniziato la volta scorsa a leggere la resa dei Pompeiani, eravamo arrivati insomma al paragrafo 2, fine del paragrafo 2, quindi dobbiamo iniziare il paragrafo 3, ac adibita diligenzia ex castris sibile giones alias occurrere, et eas quas secum duxerat invicem requiescere atque incastra reverti iussit, e odenque die larisam pervenit. Quindi il soggetto di questa frase è Cesare, che come abbiamo visto la volta scorsa accoglie i soldati romani pompeiani che si arrendono, si consegnano insomma, quindi come abbiamo visto consegnano le armi, le armi consegnano loro stessi, si affidano alla clemenza di Cesare, Cesare dimostra per la prima volta quindi la sua clemenza nei confronti appunto di questi soldati romani. Incomincia la frase con un ablativo assoluto, ac adibita diligenzia, cioè adibita ac diligenzia diremmo noi, quindi dimostrata questa scrupolosa disposizione, questa attenzione, dimostrata questa attenzione nei confronti, ecco di che attenzione si tratta, addirittura Cesare non solo accoglie questi soldati, ma monisce i suoi a non toccarli neanche con un dito si può dire, ne qui e orum viola retur, e poi a restituire, controllare insomma che non sia sottratto assolutamente niente a questi nemici pompeiani, che loro non si lamentino della perdita di niente, di loro. Ecco quindi che cosa vuol dire ac adibita diligenzia, no? Quindi dimostrate questa attenzione, adibita infatti è il participio perfetto dal verbo adibio, adibes adibui adibitum adibere della seconda coniugazione, è un participio perfetto quindi un verbo attivo, quindi con un valore passivo, adibitum 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 dalle loro fortificazioni. Comandò che anche gli altri, insomma gli altri pompeiani, no? Occurrere sibi, venissero da lui, le altre legioni, dall'accampamento, et eas quas secum duxerat in vicem requiescere. Ah no, scusate, non i pompeiani. Comandò che le altre legioni di cesariani, che erano rimasti in seconda fila e quindi non avevano partecipato il giorno prima alla battaglia, venissero da lui, dall'accampamento, scusate, quindi dall'accampamento in cui erano rimasti, cioè alcuni soldati erano rimasti a, come dire, a sorveglianza dell'accampamento, dell'accampamento di Cesare, dicono, e quindi non avevano preso parte alla battaglia. Ebbene, Cesare comandò Iussit, Iussit infatti regge un po' tutti questi infiniti, infinitive, comandò che queste altre legioni di cesariani, assolutamente, venissero, giungessero a lui, venissero a un aiuto a lui, dall'accampamento, et eas quas secum duxerat in vicem requiescere. E comandò che invece a turno riposassero, riposassero quelle legioni che aveva condotto con sé, che aveva condotto con sé in battaglia. Ottemperato il suo, insomma, il suo dovere, insomma, la sua scrupolosa disposizione, Cesare comandò che le altre legioni venissero da lui, le altre legioni dall'accampamento venissero da lui. E invece, invece, invicem, invece, il nostro invece deriva da invicem, che in latino invece ha un significato leggermente diverso. Invicem vuol dire a turno, un turno dopo l'altro. Quindi, al posto di queste, le legioni che aveva condotto con sé in battaglia, requiescere, riposassero e tornassero nell'accampamento. E Odemdie, in quello stesso giorno, giunse a Larissa, 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 è una città della Tessalia che si trova poco a nord rispetto a Farsano. Quindi, H di vita di vigenza, abbiamo già detto cos'è, Iussit è la principale, il prevo della principale, il perfetto da Iube o Iubes, Iussi, Iussu, Iuber. Poi, queste infinitive, ecco. Quindi, legione Salias sarebbe il soggetto dell'infinitiva, l'abbiamo già detto l'olto scorsa. Potremmo anche tradurlo così, comandò alle altre legioni di venire nel suo aiuto, insomma. Però, letteralmente, legione Salias in latino sarebbe il soggetto dell'infinitiva. Occurrere. Occurrere è l'infinito presente del verbo occurro, occurris, composto di cucurri, occursum, occurrere. Sibi è il dativo retto da occurro. Questo è un composto con ob, spesso i verbi composti reggono il dativo, venissero da lui, venissero in suo aiuto. Ex castris è complemento di moto da luogo, dall'accampamento. Provengono dall'accampamento queste altre le legioni. Ecco, mandò che invece le legioni eas, quelle, quelle che, quindi quelle sarebbe il soggetto dell'infinitiva, è un accusativo femminile plurale, quelle che aveva condotto con sé, dux er atel, più che perfetto indicativo, infatti, nel verbo duco ducis dux duc tunducere, quelle che aveva condotto con sé, se come complemento di compagnia, più che perfetto dux er atel, ho già detto, a turno requiescere, riposassero, a loro volta insomma, riposassero. Prima ha riposato le altre legioni, le alias legiones, che erano rimaste nell'accampamento, a guardia dell'accampamento. Adesso è giusto che riposino quelle che hanno combattuto, quelle che hanno combattuto contro i Pompeiani. In vicem è un avverbio, requiescere è l'infinito presente da requiesco, requiescis, requievi, requietum, requiescere. Tutte le infinitive rette dagli ussit incastra reverti, cioè che queste legioni tornassero appunto nell'accampamento. Quindi incastra e complemento di moto a luogo, in più accusativo, e reverti che tornassero. Reverti è l'infinito del verbo semideponente, revertor, reverteris, reverti, reversum, revertere. È un semideponente diverso dagli altri. Mentre audio, gaudio e soleo hanno la forma attiva nel presente derivati e passiva nel perfetto derivati, revertor, al contrario, ha la forma passiva nel presente derivati. Revertor, reverteris è l'indicativo presente, reverti è appunto l'infinito presente. Mentre invece ha la forma attiva nel perfetto derivati. Reverti, eccetera. Quindi reverti è l'infinito presente di questo verbo. Quindi essendo un verbo semideponente ha la forma passiva, ma il significato attivo. Comandò quindi che tornassero nell'accampamento. Et eodem die, eodem die, è un complemento di tempo, in quello stesso giorno, nel medesimo giorno, ablativo di tempo determinato, eodem die, pervenit larisam, giunse a Larisa, Larissa, altra città della Tessalia. Pervenit. Perfetto indicativo del verbo pervenio, pervenis, perveni, perventum, pervenire, che è un verbo che ha il tema del presente uguale al tema del perfetto. Larisam è un complemento di moto a luogo. Come ben sappiamo, infatti, con i nuovi di città o di piccola isola, il complemento di moto a luogo si rende con l'accusativo semplice. Il tragico bilancio di Farsalo. Il paragrafo seguente, il paragrafo 99, lo leggiamo in traduzione e sintetizza quello che è successo in questa battaglia di Farsalo, e soprattutto come sono venuti meno alcuni dei soldati più eroici, che si erano distinti maggiormente per valore. Purtroppo la guerra, la battaglia porta con sé queste conseguenze. Magari i soldati più valorosi combattono e muoiono nel corso del combattimento. Dobbiamo notare comunque che Cesare è obiettivo. È obiettivo, noi abbiamo sottolineato più e più volte. Magari certe volte apparentemente obiettivo e sottilmente invece emerge un po' quello che è il suo parere, il suo giudizio, pone l'accento sui suoi meriti, quasi nasconde o tace i suoi demeriti. Però ci tiene a precisare questa cosa, che lui non avrebbe assolutamente voluto combattere contro i romani, contro un esercito di romani, ma è stato costretto. E lo si vede questo anche perché, insomma, evidenzia anche il valore dei nemici. In quella battaglia non perdette più di 200 soldati. Lui, Cesare, parla sempre di sé in terza persona, non ha perso più di 200 soldati. È stata una vittoria strabiliante quella di Cesare. Ma vennero a mancare circa 30 centurioni, uomini valorosi. Ricorda però con una certa amarezza che tra questi 200 soldati, ce ne sono 30, che erano molto a cuore a Cesare. Erano i centurioni. I centurioni erano soldati a capo di una centuria. Noi diremmo i sergenti, non so. Evidentemente erano persone che avevano raggiunto quel grado militare perché erano soldati semplici, che si erano particolarmente segnalati e per questo motivo erano diventati centurioni. E quindi la perdita di questi è particolarmente dolorosa. Restò ucciso anche Crastino, del quale abbiamo fatto parola sopra. Crastino aveva guidato l'assalto delle truppe, delle sue truppe, dei suoi 100 soldati, insomma. Con grandi parole di incitamento, di fedeltà, aveva mostrato grande fedeltà, insomma, grande attaccamento a Cesare. Quindi proprio il fatto che sia morto lui amareggia particolarmente Cesare. Restò ucciso anche Crastino, del quale abbiamo fatto parola sopra, mentre combatteva con grande valore, colpito da un colpo di spada in pieno viso. Anche la stessa morte di Crastino ne sottolinea il valore e il coraggio. Vuol dire quindi che ha affrontato il nemico a viso aperto. Egli proprio è stato colpito. Ne furono vane parole quelle che egli aveva detto nell'atto di partire per la battaglia. Cesare giudicava infatti straordinario il valore di Crastino in quella giornata e riteneva che egli avesse ben meritato tutta la sua riconoscenza. E il comandante insomma era riconoscente con Crastino, sapeva bene il suo valore. Ha meritato quindi l'alta considerazione che aveva il comandante di lui. E qui finito con Crastino, abbiamo finito con Crastino, che era uno dei suoi, quindi che era un cesariano. Dell'esercito di Pompeo fareva che fossero caduti circa 15.000 uomini. Per l'inettitudine dei vari comandanti, invece l'esercito di Pompeo è andato contro una strage tremenda. Capite la sproporzione? 200 soldati cesariani erano morti a fronte di 15.000 Pompeiani. Ma se ne arresero più di 24.000, poiché anche le cohorti che erano state di guardia nei fortini si consegnarono nelle mani di Silla, e Silla sarebbe uno dei luogotenenti di Cesare, ovviamente. Quindi era un esercito numerosissimo quello di Pompeo, che di per sé, di poco, pur di poco, era superiore. Calcolando sia il numero dei soldati, sia le dotazioni, sulla carta avrebbe dovuto vincere Pompeo. E invece ha stravinto Cesare. E più di 24.000 si sono arresi. E inoltre molti fuggirono nelle città vicine. Quindi sottolinea il fatto che molti erano codardi, non scapparono. Furono anche riportati a Cesare dal campo di battaglia 180 insegne militari e 9 aquile. Era un segno, un simbolo importante questo. Quando vengono riportate le insegne dell'esercito nemico, ciò vuol dire che i portainsegne hanno lasciato sul posto questi standardi, che erano appunto un simbolo importante, quindi in questo caso simbolo della resa dei Pompeiani e della vittoria straordinaria di Cesare. Lucio Domizio, mentre fuggiva dal campo verso il monte, abbandonato dalle forze e sopraffatto dalla stanchezza, fu ucciso dai cavalieri. Allora, sintetizza la drammatica sconfitta dei Pompeiani nella tragica morte di Lucio Domizio. Quindi, senza soffermarsi più di tanto, Cesare racconta anche la sorte dell'esercito dei Pompeiani e sintetizza la drammatica sconfitta di Lucio Domizio, di uno dei generali Pompeiani. Adesso però saltiamo al paragrafo 102, quindi dal 99 al 102 e spieghiamo che cosa si racconta nei paragrafi che mancano, che sono appunto il 100 e il 101, non è che sono tanti. Diciamo che Pompeo decide di scappare, ecco, pensa che sia il caso di andare via. Ormai ha perso la battaglia, la battaglia di farselo e quindi pensa che la cosa più utile è scappare, andarsene. Pompeo, infatti, ha ancora tante truppe sparse in tutto quanto l'impero. Tant'è vero che poi, come vedremo, Cesare sarà costretto a inseguire i Pompeiani, diciamo, da Oriente a Occidente. Quando Cesare viene a sapere che Pompeo sta scappando, decide di inseguirlo, perché appunto ha paura che poi i Pompeiani possano riorganizzarsi. Sicuramente ha vinto una battaglia importante, ma se non insegue, ad esempio, Pompeo, corre il rischio di rendere vana anche questa straordinaria vittoria. Quindi lascia perdere tutto quanto il resto e insegue Pompeo. Pompeo dove è andato? Dove è scappato? Insomma, facciamo così, leggiamo proprio il testo del paragrafo 102. Dice infatti Cesare, lasciate da parte tutte le altre faccende, credete necessario inseguire Pompeo in qualunque parte si fosse rifugiato, perché non potesse ricostituire l'esercito e rinnovare la guerra. Così ogni giorno faceva tutta la strada che poteva con la cavalleria, mentre una legione era incaricata di seguirlo a tappe più brevi. Era stato pubblicato ad Antifoli, Anfipoli scusate, a nome di Pompeo, un editto secondo cui tutti i giovani di quella provincia, Grecia e cittadini e romani dovevano raccogliersi per prestare giuramento militare. Ma non si poteva giudicare se Pompeo lo aveva promulgato per stornare i sospetti e tenere nascosto quanto più a lungo era possibile il suo proposito di fuggire lontano o si tentasse di restare padrone della Macedonia con nuove leve, qualora nessuno lo seguisse. Cerchiamo di seguire il viaggio di Pompeo e dietro di lui di Cesare. Pompeo va verso nord, Pompeo va verso la Macedonia, Pompeo va ad Anfipoli dove fa una specie di editto per reclutare dei soldati. Allora non si sa bene se vuole reclutare questi giovani soldati per stornare i sospetti e tenere nascosto quanto è più possibile il suo proposito di fuggire ben più lontano rispetto alla Macedonia, oppure se vuole rimanere padrone della Macedonia con nuove leve. Comunque egli restò all'ancora una notte e convocati presso di sé gli amici che aveva da Anfipoli, preso a prestito da tutti del denaro per le spese necessarie, quando seppe dell'arrivo di Cesare lasciò quel luogo e in pochi giorni giunse a Mitilene. Mitilene invece se non sbaglio è un'isola dell'Asia minore, quindi con la nave va verso l'Asia minore Pompeo. Quando sa che Cesare lo sta inseguendo scappa, quindi continua a scappare. Trattenuto là due giorni dalla burrasca, aggiunte alcune imbarcazioni leggere, giunse in Cilicia e poi a Cipro. Quindi Cilicia è una regione dell'Asia minore, attuale Anatolia. E poi si sposta sull'isola di Cipro. Qui venne a sapere che per decisione unanime degli antiochesi e dei cittadini romani, cioè praticamente di quelli che si trovavano in Antiochia di Siria, era una delle città più importanti della zona, che nell'isola esercitavano il commercio, erano state impugnate le armi per impedire l'accesso e messaggeri erano stati mandati ai pompeiani che si diceva si fossero rifugiati nelle regioni vicine perché non venissero ad Antiochia. La situazione si fa sempre più difficile per Pompeo. Praticamente è tale la fama delle imprese di Cesare che Pompeo era spinto da tutti. Quindi quando quelli che sono a Cipro sanno che Pompeo sta per arrivare lì, li fanno capire che è caso che non venga, perché non sarà accolto, perché non ha nessuna intenzione, soprattutto che non abbia l'idea di andare ad Antiochia, Antiochia di Siria. Ecco dovete sapere una cosa, Pompeo aveva fatto delle campagne militari in Oriente, quindi conosceva molto bene tutta quanta la zona, credeva, presupponeva di trovare molti amici, molti alleati, ma come abbiamo spiegato dopo la vittoria di Cesare insomma, Pompeo trova terra bruciata e infatti gli fanno capire che non venga insomma ad Antiochia, perché non sarà ben accolto. Se lo avessero fatto avrebbero messo a repentaglio la loro vita. Se i pompeiani avessero pensato, deciso di andare ad Antiochia, l'avrebbero fatto a rischio della vita. Quella stessa sorte era toccata a Rodi, a Lucio Lentulo, che era stato console nell'anno precedente, a Publio Lentulo, ex console e a parecchi altri. Anche sull'isola di Rodi l'accesso per i pompeiani è precluso. Costoro, seguendo Pompeo dopo la rotta, quindi dopo la sconfitta, approdati in quell'isola non erano stati accolti in città e nel porto e dunque avendo ricevuto attraverso messaggeri l'ordine di andarsene, salparono loro malgrado, avrebbero voluto questi ex consoli pompeiani, avrebbero voluto rimanere lì a Rodi, ma devono andarsene via anche se non vogliono. È già arrivata alle città la fama dell'arrivo di Cesare. Tutti sanno che Cesare sta inseguendo Pompeo e tutti quindi vogliono fare bella figura con Cesare e quindi fanno andare via i pompeiani. Adesso invece leggiamo un brano in latino, lo leggiamo e lo analizziamo. È il 103, paragrafo 103, paragrafo seguente, che narra di quando Pompeo arriva in Egitto. Bene, quibus rebus cognitis, quibus cognitis rebus, Pompeius, deposito ad eunde sirie consiglio, pecunie societatis sublata et a quibus dan privatis sumpta, et eris magnopondela militare musum in nave simposito, duobusque militibus ominum armatis, partim quose ex familiis societatem deleggerat, partim an negoziatoribus cegerat, quosque ex sui squisque adancerem idoneos existim abat, pelusium pervenit. Allora, questo periodo è un po' complesso. È fatto di tutta una serie di ablativi assoluti. Non so se vi ricordate un brano, se non ero proprio di Plauto, del servus imperator. Tanti ablativi assoluti, uno dopo l'altro. La frase principale, la principale che arriva alla fine di questo periodo molto molto lungo, in cui vengono condensate molte azioni, molte cose che accadono, prima che Pompeo arrivi in Egitto. Cioè, Pompeo arriva in Egitto, ma che cosa è successo, no? Che precede questo arrivo di Pompeo in Egitto? Quibus cognitis rebus. Sapute queste cose. Primo ablativo assoluto. Conosciute queste cose. Cognosco. Cognoscis. Cognovi. Cognitum. Cognoscere. Participio perfetto, quindi, del verbo cognoscere, cognitis, è il participio in ablativo, che è retto da quibus rebus. Sapute queste cose. Quibus rebus quibus è un nesso relativo, quibus, è un pronome relativo, ma che noi abbiamo tradotto come se fosse un dimostrativo, no? Quibus rebus, queste cose. E quindi sono gli ablativi che reggono il participio. Cioè, sapute le cose che abbiamo letto nel paragrafo 102, no? Di come, insomma, in Oriente in generale, Rodici, Pro, Antiochia, eccetera, la via ai Pompeiani sia chiusa. Pompeius, il soggetto della principale, poi questo soggetto, come vedete, aspetta un 5-6 righe, insomma, per trovare il suo verbo, pervenite. Pompeio. Deposito ad eunde sirie consiglio. Quindi abbandonata l'idea di rifugiarsi in Siria. Abbandonata l'idea di raggiungere la Siria. Quindi, deposito consiglio, altro ablativo assoluto. Depono, deposto, deporre, perdere, lasciare, abbandonare, abbiamo detto, no? È un composto di pono. Depono, deponis, deposui, depositum, deponere. È il participio perfetto all'ablativo maschile singolare, no? Che regge quindi, o è retto meglio, è retto da consiglio. Il consiglio sarebbe il soggetto dell'ablativo assoluto e inablativo, ed è consiglio. Abbandonata l'idea consiglium, scusate, neutro, vuol dire non semplicemente il consiglio, ma anche idea, progetto, decisione, di raggiungere la Siria. Questo di raggiungere la Siria è reso come un gerundivo al gerundio. Letteralmente per i romani sarebbe della Siria da raggiungere, no? È il cosiddetto gerundio al posto del gerundivo, scusate, al posto del gerundio, no? Gerundivo al posto del gerundio. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che invece di un gerundio che regge, non so, un accusativo, un complemento oggetto, abbiamo il sostantivo che si trova nel caso in cui dovrebbe essere semplicemente il gerundio. A questo punto invece del nome verbale, cioè gerundio, so, adeundi, abbiamo l'aggettivo verbale, cioè il gerundivo che è concordato col sostantivo, no? Quindi lasciata da parte l'idea di raggiungere la Siria, di raggiungere. Infatti questo è il verbo ad eo, ad eo, ad is, ad ivieditum, a dire, vuol dire andare verso, no? Andare verso la Siria, di andare verso la Siria. Quindi abbandonata l'idea di raggiungere la Siria, no? Pecunia societatibus sublata, quindi confiscato il denaro ai pubblicani. Tolto il denaro agli appaltatori. Allora, il societatibus. Alle società si intende le compagnie di pubblicani, le compagnie di appaltatori. Sottratto, tolto, confiscato il denaro. Un altro suffero, suffers, substuri, sublatum, sufferre. Sì, è vero, è un composto di sum che hai perfetto, è il supino, in concorrenza con tollo. Tollo, tolle, substuri, sublatum, tollere. Va bene. Vuol dire sottrarre, togliere, quindi anche confiscare, no? Insomma, Pompeo arriva lì, in Oriente, e porta via tutto il denaro che può portare via, no? Quindi ablativo assoluto, sublata, pecunia è l'ablativo soggetto dell'ablativo assoluto femminile singolare, pecunia, pecunia è il denaro, societatibus, letteralmente alle società, cioè alle compagnie, sottinteso di pubblicani, di appaltatori. A che cosa ci si riferisce? Insomma, le tasse per i romani non venivano riscosse direttamente da funzionari alle dipendenze del Senato, ma c'erano degli equites, cioè dei cavalieri insomma, che appaltavano questo servizio, cioè insomma, meglio il Senato appaltava questo servizio a questi pubblicani. E quindi loro davano una certa somma al Senato romano e poi andavano in Oriente, ad esempio, riscuotevano le tasse, prendevano molto più di quella somma, no? E se la tenevano per sé. Ora, quando Pompeo arriva lì, confisca loro il denaro, capite? Avete capito quindi cosa vuol dire? Sublata, pecunia, societatibus. et acquibus damma privatis sumpta, e presolo in prestito invece da alcuni privati cittadini, cioè vuol dire che ai pubblicani glielo toglie con la forza il denaro, invece ai privati cittadini che magari appartenevano allo stesso partito degli Optimates, il partito di Pompeo, e quindi condividevano le scelte politiche di Pompeo, bene a questi lo prende effettivamente il denaro sumo sumis, sumsi sumptum sumere però, ha una sfumatura di significato diversa rispetto al soffero che abbiamo visto prima, perché glielo chiede, insomma, viene preso in prestito, anzi promette loro di restituirlo, quando potrà restituire? Se glielo potrà restituire, poi dopo morirà, e quindi figurati se potrà restituire. Sumpta pecunia, capite perché sumpta anch'esso è all'ablativo femminile singolare? Perché è sempre riferito con pecunia, no? Quindi, presolo in prestito invece da alcuni privati cittadini, a oab più ablativo, quindi da gente, no? Ah, qui busdam privatis, ecco abbiamo, sappiamo qui dam qui dam coddam, no? È un aggettivo indefinito che vuol dire certi alcuni, no? Al plurale, no? Da certi, da alcuni privati cittadini. Et eris magno pondere ad militare musum in naves imposito, e quindi messo, messo, messa, ecco, messa una gran quantità di bronzo sulle navi per le necessità militari, messa sulle navi una grande quantità di bronzo per le necessità militari. Allora, con il bronzo si potevano fare delle armi, per esempio, no? Quindi è vero che conoscevano il ferro, però, insomma, non sempre c'era a disposizione questo, no? Quindi si usa il bronzo, quindi per le… non penso che voglia significare denaro, del denaro ho già parlato prima, penso che qua si riferisca proprio alla… non so, potrebbe essere anche denaro, adesso vi spiego perché. Perché con il bronzo si facevano anche le monete, e quindi spesso es eris, oltre a significare bronzo, significava anche denaro. Quindi potrebbe anche significare questo, quindi… potrebbe significare, quindi, messa una grande quantità, infatti il soggetto qua derivativo assoluto è magno pondere, un gran peso, letteralmente. L'ho tradotto in una grande quantità di bronzo, che potrebbe però essere anche una grande quantità di soldo, di denaro, e quindi magno pondere il soggetto derivativo assoluto, mentre eris è il genitivo di specificazione, grande quantità di genitivo di specificazione. Ad militarem usum invece è il complemento di fine per l'uso militare, per le necessità militari. Ad è più accusativo, infatti lo sappiamo può rendere il fine. Et armatis duobus milibus hominum, armati, arruolati, duemila uomini. Armati, arruolati, duemila uomini. Altro ablativo assoluto, armo armas armavi armatum armare, armare nel senso di dare delle armi, quindi arruolare, ha bisogno di soldati, ormai non ha più soldati quasi Pompeo, e quindi diciamo che fa una specie di leva, chiamiamola così, una leva militare. E quindi armati duobus milibus, in latino sono due migliaia, no? Duo è l'aggettivo numerale, no? Due migliaia. Emilia milium si trova qua ovviamente all'ablativo perché è insomma il soggetto dell'ablativo assoluto. Due migliaia di uomini. Ominum pertanto è un genitivo partitivo in latino, no? Noi invece traduciamo duemila uomini, no? Ma letteralmente il latino sarebbe due migliaia di uomini. Partim quos ex familiis societatum deleggerat. Quindi una parte che aveva scelti tra gli schiavi dei pubblicani, una parte che, una parte che i quali, quos infatti sono i soldati, no? Tra i duemila, no? di cui ho parlato prima. Che lui aveva scelto, che lui Cesare, aveva scelto deligo deligis, deligi de lectum deligere, più che perfetto indicativo. Aveva scelto ex familiis tra, partitivo anche questo, tra gli schiavi, famiglia, famiglie. Infatti dovete sapere che in latino significava significava proprio l'insieme delle persone che si trovava sotto un padrone, sotto un pater familias. Quindi è vero che c'erano anche le moglie e i figli, eccetera, no? Ma c'erano anche gli schiavi. Tant'è vero che questo è un altro modo per dire schiavo, no? Proprio, familiare, insomma. Per i latini in realtà poteva significare proprio schiavo. Tra gli schiavi, quindi i familiis, societatum, delle famose compagnie di appaltatori di cui abbiamo già parlato prima, no? Partim a negoziatoribus cegerat. Una parte invece di questi duemila soldati arruolati, li aveva raccolti dai commercianti, dai mercanti. Una parte cegerat, kogo kogis, cegico actum kogere, li aveva raccolti, Cesare sempre soggetto sottinteso, li aveva raccolti dai commercianti, dai mercanti, negoziatoribus. Provenivano da, ecco, questo auab più ablativo stavolta ha un valore di origine e provenienza, dai mercanti, dai commercianti. Et quos, quosque, et quos, ex suis, quisque, adancerem idoneos, existimabat. E che ciascuno di questi mercanti, di questi commercianti, existimabat riteneva adatti, tra i suoi, appunto, adancerem per questo scopo, che riteneva adatti per combattere, insomma. E che ciascuno quisque è soggetto. Questo ciascuno è riferito ai mercanti di prima, no? Infatti abbiamo detto che Pompeo aveva raccolto un certo numero di uomini da questi, aveva presi, insomma, arruolati da questi mercanti. Ciascuno di questi mercanti aveva scelto poi l'uomo giusto, no? Da dare a Cesare, scusate, da dare a Pompeo per combatterlo. Quindi quisque ex suis, un altro partitivo che ciascuno aveva scelto tra i suoi, adancerem, a questo scopo, per questa cosa. Un altro complemento di fine. Pelusium per Venet, finalmente la principale, giunse a Pelusio, si tratta di un porto, insomma, di una città dell'Egitto, presso la foce del fiume Nilo. Ibi, casu rex erat Ptolomeus. Lì, per caso, c'era il re Ptolomeo. Ptolomeo non si trovava quindi, per esempio, ad Alessandria, capitale del regno alessandrino, il regno dell'Egitto, uno dei regni appunto ellenistici, l'unico che era rimasto in piedi dopo che ormai erano caduti tutti, no? Il regno di Siria, il regno del Ponto, di Macedonia, ormai erano già tutti in mano ai Romani. Era rimasto solamente il regno d'Egitto. Era morto il padre ed aveva lasciato il figlio tredicenne, praticamente, sul trono. Ptolomeo era un re che aveva 13 anni. Per caso, lì, c'era il re Ptolomeo. Puer etate! E quanti lo dice? Di età ancora un ragazzino, quasi un bambino, no? Puer etate sarebbe Puer, a posizione del rex, anche rex a posizione di Ptolomeo, insomma, no? C'è del soggetto della frase. Etate sarebbe un ablativo di limitazione. Per caso, casualmente, casu è un ablativo che poi è diventato quasi avverbio, no? Ablativo della quarta, casus casus, ablativo della quarta comunque. Si trovava lì, ibi, avverbio di luogo, ibi, eo, ind, ea, no? A verbio di luogo derivante da Issaid. Si trovava lì, per caso, il re Ptolomeo. Puer etate. Un ragazzino d'età. Magnis Copis, con truppe numerose, che stava combattendo, meglio, con numerose truppe, contro la sorella Cleopatra, che stava conducendo una guerra, Gerens, mentre conduceva una guerra. Gerens è un participio congiunto, riferito al reto Lomeo, al nominativo singolare, da Gero Geris, Jesse Gestum Gerere. Bellum è il complemento oggetto di Gerere, che stava combattendo una guerra contro la sorella Cleopatra, con numerose truppe. La sorella maggiore, insomma, Cleopatra. Con grandi truppe, numerose truppe, è complemento di mezzo, di strumento. Cioè, per mezzo di aiutato, insomma, da truppe numerose, il re Ptolomeo stava combattendo contro la sorella Cleopatra, cum più ablativo, cum sorore Cleopatra. Sorella che lui aveva cacciato, pochi mesi prima, aveva cacciato dal regno, su consiglio dei suoi familiari e amici. Sorella che lui, sorella che, quame complemento oggetto, lui, re Ptolomeo, è soggetto. Expulerat, aveva cacciato dal regno, expello, expellis, expuli, expulsum, expellere. Più che perfetto indicativo, è questo verbo. Che aveva cacciato dal regno, quindi regno, è un complemento di allontanamento, separazione, o di moto da luogo. Retto dalla ex, che è prefisso del verbo, che aveva cacciato dal regno. Moto da luogo, sai. Paucis ante mensibus, ante staperantea, pochi mesi prima. Ante paucis mensibus. È un complemento di tempo, insomma. Per suos propinquos at que amicos. È un complemento di mezzo con persone. Il mezzo con persone si rende con per più accusativo. Per mezzo o anche per consiglio, su suggerimento dei suoi familiari propinquos, potrebbero essere però anche i consiglieri propinquos, i suoi vicini, insomma, consiglieri, quindi, e amici. Castraque Cleopatra non lungo spazio, abeius castris distabante. E l'accampamento di Cleopatra distava poco, non era, distava non lungo spazio, quindi sarebbe una specie di litote, non distava molto, quindi distava poco, uno spazio, quindi un intervallo di luogo, però, insomma, non di tempo, non lungo, letteralmente, abeius castris, da quell'accampamento, dal suo campamento. Quindi l'accampamento di Cleopatra non era molto distante dal suo. non distabante, e sì, a plurale, perché Castracastrorum ovviamente è a plurale, abeius castris dall'accampamento di lui, insomma, si trovava, insomma, lì vicino l'accampamento di Cleopatra, vicino a quello di Tolomeo. Adeum Pompeius Misit, quindi Pompeo chiese a lui, ovviamente, Pompeo chiese a Tolomeo, chi è il re, insomma, che è il potere adesso in Egitto, è Tolomeo. Allora Pompeo manda a chiedere, mito mittis misi missum mittere, sappiamo che vuol dire mandare, ma qui vorrebbe dire che manda degli ambasciatori a chiedere, no? Adeum, da lui, quindi da Tolomeo, ut prospizio atque amicizia patris, Alexandria Reciperetur, manda a chiedere, chiede, implora, di essere accolto in Alessandria per l'ospitalità e l'amicizia del padre Tolomeo Aulete. Manda a chiedere, chiese, chiese a lui, Pompeo chiese a lui, che fosse accolto, Reciperet, quindi Misit ut, è una completiva, abbiamo detto che questa volta mito, sì, un significato proprio di, anche di richiesta, insomma, chiese, e lui, che fosse accolto, Recipio, Recips, Recipi, Receptum, Reciperet, è il congiuntivo imperfetto passivo, che fosse accolto in Alessandria, che fosse accolto ad Alessandria, che fosse nascosto, insomma, quasi, no? In Alessandria. Pro auspizio atque amicizia patris, proprio ablativo, generalmente sarebbe complemento di vantaggio, no? Qui, però, più un valore di causa, dir la verità, cioè per l'ospitalità e l'amicizia che già era intercorsa fra Pompeo e il padre di Tolomeo. Tolomeo Aulete, infatti, aveva accolto Pompeo quando era trionfatore, generale trionfatore in Oriente, parecchi anni prima, un po' di decenni prima, insomma. Adesso, dice, chiede al figlio la stessa identica ospitalità. Atque il lius opibus in calamitate te gereto, e chiede che fosse aiutato nella disgrazia, nel suo momento difficile, fosse aiutato dalle sue risorse, dai suoi mezzi, dalle sue ricchezze, fosse aiutato con le sue ricchezze nel momento difficile della calamità. te gereto, letteralmente fosse coperto, te go tegis texitectum tegere, fosse coperto, fosse aiutato, un altro congiuntivo in perfetto passivo, in calamitate, nel momento del bisogno, insomma, in calamitate in più ablativo, il lius opibus, dalle sue ricchezze, dai suoi mezzi, dalle sue risorse, quindi dalle risorse di lui, cioè di Ptolomeo. Quindi opibus è l'ablativo di ops opis, che al plurale opes opium significa proprio mezzi, risorse, potenze e ricchezze. Quindi ablativo plurale, mentre il lius sarebbe di lui, cioè di Ptolomeo.